musica io sono l'erede della scuola di dove si trova la scuola superiore furincan dove si trova la scuola superiore sei piuttosto gracile non avresti potuto sconfiggerlo ma a quanto pare puoi aumentare di potenza trasformandoti in un super saio quella volta dovevamo batterci su quel terreno abbandonato proprio dietro casa non sopporto che gli androidi si comportino come meglio credono io voglio diventare ora ti chiarisco io le idee rispondi a questa domanda rispondimi ti ho fatto una domanda perchè diavolo non ti sei presentato quella volta alla sfida alla sfida è la sfida finale che riyoga non è un parco di divertimenti la sfida della scuola ma sulla Maurizio